non lasciamo che gli uomini spengano i nostri sorrisi non è mai solo uno schiaffo perché se usa violenza non è amore se ti fa del male fisico non è amore se ti intimidisce non è amore se ti dice che senza di lui non sei nulla non è amore se limita la tua libertà economica non è amore se ti impedisce di chiedere aiuto se ti telefona di continuo per insultarti non è amore se ti controlla in modo positivo non è amore se minaccia te e i tuoi figli non è amore se ti umilia se ti isola non è amore l'amore non è soppruso noi non lasceremo mai da soli le donne vittime di violenza noi saremo inflessibili con i maltrattanti ma le aiuteremo a riconoscere le proprie responsabilità per sconfiggere la violenza di genere occorre anche favorire il raggiungimento di tale consapevolezza vinci le tue paure i tuoi dolori la tua vergogna non sei sola noi ci saremo sempre grazie grazie grazie